Lui è alla quarta partecipazione mondiale, salta in lungo, Watt. Il terzo della classifica. E l'australiano... Eh, che qui rimarrà quasi certamente al terzo posto, ma incrementando, portandosi un po' fuori quota rispetto al suo connazionale. Fabrizio Lapierotto, 37. È a 17 centimetri dal primo e a 10 dal secondo. Aveva 8,28, dunque si migliora, rimane lì per ora sul podio. 16 centimetri meglio di Lapierre, l'australiano. Siamo al quinto salto. In totale sei salti.